La soddisfazione era palpabile, l'obiettivo dei 1300 abbonamenti resta alla portata di mano in via Madonna del Prato, nella sede dello store del Rezzo Simone Trippi, uno che ha il cuore amaranto fin dal primo vagito, valuta con grande positività la risposta avuta nell'immediato post Ferragosto. Dopo Ferragosto la pausa ha portato buone notizie. Abbiamo riaperto stamattina e c'era già gente in fila alle 10 all'apertura, questa è una cosa che sinceramente non mi aspettavo. Consideriamo che prima delle ferie che abbiamo fatto viaggiavamo alla media di circa una decina di abbonamenti al giorno, stamattina siamo già una trentina fatti, quindi è un risultato che dimostra che c'è tanta voglia di Arezzo. Più si avvicina al campionato più questo entusiasmo monta. L'obiettivo 1500 a portata? Sinceramente sembrava autopistico qualche settimana fa, però probabilmente non arriveremo a 1500, ma ci andremo molto vicino. La risposta dei tifosi è stata importante, forse non era mai accaduto in passato. A memoria mia sinceramente la migliore campagna, le facevo da tifoso chiaramente, però i numeri erano sempre stati sull'ordine di 1000-1002. Quest'anno sembra veramente che ci sia voglia di Arezzo, anche per ripagare probabilmente un certo lavoro che la società sta facendo, che è molto apprezzato in città. Grazie. Grazie.